allo 4, allo 4 è partenza della laguna blu, la barca è sordeggiata qua alla laguna, allora forse torna indietro prima e anche fa un po' di cambio direttamente dalla laguna anche usa il scivolo, portando in parte il proverso. Vai, vai, ciac, si gira! Sei pronto? Io sono pronto! Vieni, vieni da lato, non ti facciamo un maniglia, dove? Saraje, vieni da lato, non ti facciamo un bel refizio, clemente come sono una lacuna, sai vite in mella, dove? T 나를 울en lui, vieni ? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.